Oltre 5.000 volontari, quindi è una mobilitazione veramente importante e partecipano veramente tutti, da associazioni, enti caritativi, partner, aziende, persone semplici e abbiamo dei partner storici. È uno spettacolo di soggetti che collaborano anche tutto l'anno col Banco Alimentare perché il Banco Alimentare nelle Marche e in Italia lavora ogni giorno dell'anno nei suoi magazzini raccogliendo e distribuendo gratuitamente il cibo agli enti caritativi del territorio. Nelle Marche noi serviamo 290 enti caritativi che a loro volta servono 43.000 persone e oltre in difficoltà economiche, quindi in difficoltà in povertà alimentare. Quindi è davvero un'attività importante e il gesto della colletta, che è una giornata nazionale giunta alla 28esima edizione quest'anno, si svolgerà nelle Marche in 398 punti vendita che hanno aderito a questa iniziativa. Punti vendita della grande distribuzione dove ci saranno i volontari in pettorina arancione che chiederanno alle persone che vanno a fare la spesa di donare una spesa al Banco Alimentare che a sua volta donerà questo cibo ai soggetti che sono in difficoltà. Mi sento non solo di rivolgere un appello a partecipare a questa colletta, ma mi sento di dare tutta la nostra gratitudine per quello che quotidianamente si fa, perché c'è il giorno della colletta ma dopo il giorno della colletta c'è tutto l'enorme lavoro che viene prima e poi anche dopo. Quindi veramente grazie, si tratta di volontariato e noi sappiamo benissimo che il volontariato nel nostro paese è un valore aggiunto. I dati oggi si dicono che abbiamo raggiunto circa un 11% della povertà all'interno delle Marche, è un dato particolarmente preoccupante perché denota una crescita esponenziale nel tempo. Il post-covid ci ha restituito un grandissimo peso e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di superarlo, anzi arginarlo con il nostro supporto. Noi abbiamo avuto un 6% in più nelle Marche di raccolta e tenete presente che la raccolta della colletta rappresenta il 10% del nostro raccolto annuale, quindi è una parte importante del nostro lavoro. E quindi con questo contributo, con questo arricchimento, con questo aumento, che non ci aspettavamo tra l'altro perché è stato un anno difficile anche l'anno scorso, siamo riusciti a raggiungere, siamo passati dalle 42 mila persone e qualcosa, alle 43 mila anche perché i nostri soggetti, i nostri enti caritativi sono in aumento. Grazie. Grazie. Grazie.